Come si può confrontare l'impatto sul mercato del lavoro della crisi di una società rurale come quella degli anni 30, con una terziaria attuale, non è semplice. Tuttavia qualcosa è possibile fare usando i dati di continuità nazionale. A prima vista, guardando gli occupati, sembrerebbe che la crisi attuale sia più lunga, perché non siamo ancora tornati all'occupazione del 2008, ma meno grave perché la caduta sembra più lenta, minore. Però se guardiamo alle unità di lavoro, che sono al netto della cassa integrazione, la crisi è altrettanto grave in termini di caduta. Noi abbiamo adesso il Stato sociale che interviene e fa sì che siano degli occupati a casa e sono i cassi integrati. Quindi la crisi attuale si presenta più lunga e altrettanto grave di quella del 2009. Secondo aspetto, il mutamento strutturale. La caduta maggiore dell'occupazione sia adesso sia in passato è legata all'industria e all'edilizia, soprattutto all'industria. Solo che negli anni 30 fu una crisi congiunturale. Dopo 4-5 anni l'industria riprende a crescere l'occupazione, grazie anche se vogliamo allo sforzo bellico imminente. In Italia invece continua a scendere l'occupazione in agricoltura, in industria. E sembra quindi essere di fronte a un momento strutturale. L'Italia si sta deindustrializzando pesantemente. Con la crisi è accentuato un fenomeno di lungo periodo. Per quanto riguarda la disoccupazione, è molto più difficile da stimare, però certamente sia un aspetto comune è quello dell'aumento della disoccupazione iniziale dei giovani. Questo è sia un fenomeno attuale sia del passato. Adesso più accentuato che in passato. In particolare per le donne all'ingresso nel mercato del lavoro. Nonostante l'occupazione femminile sia caduta meno di quella maschile, anzi sia addirittura aumentata con la recente crisi. Un aspetto interessante è cosa facevano i disoccupati prima. Non è facile ricavarlo, però giocando un po' che i censimenti è possibile dire che in passato, negli anni 36, l'anno in cui abbiamo le informazioni, quasi l'80% lavoravano in agricoltura, nell'industria e nell'edilizia. Adesso la percentuale è al 40%. Quindi anche la disoccupazione di chi ha perso un lavoro è profondamente cambiata. Ora è una disoccupazione terziaria e quindi, se vogliamo, anche più qualificata e anche più istruita. Grazie a tutti.